Vediamo adesso le trasformazioni adiabatiche sul libro Amaldi. Il gas si trova all'interno di un termos, quindi un contenitore isolante termico, in modo che non possa scambiare calore con l'esterno. Per far espandere il gas cominciamo a ridurre lentamente la pressione esterna, togliendo poco alla volta la sabbia sul pistone, quindi un granello per volta, una trasformazione quasi statica che dura praticamente all'infinito, in cui il gas si trova praticamente sempre in equilibrio con l'ambiente esterno, sia come temperatura che come pressione. Quindi il gas si espande e la curva diabatica che descrive questa trasformazione scende più ripida dell'isoterma. Questo perché? Perché non ci sono scambi di calore tra il gas e l'ambiente esterno, allora per fare il lavoro motore di espansione il gas deve prelevare energia dall'energia interna. Anche matematicamente, siccome il lavoro è positivo, il gas compie lavoro espandendosi, quindi un lavoro motore, allora con il segno meno, delta U risulta negativa. E quindi il gas diminuisce di temperatura. Ecco perché la curva diabatica è sotto all'isoterma. Nell'espansione diabatica il gas compie lavoro positivo, la sua energia interna diminuisce, il gas si raffredda e il grafico è più pendente di quello dell'isoterma. Una trasformazione diabatica in espansione è quello che accade quando facciamo uscire velocemente il contenuto di una bomboletta spray. Il gas del getto si espande in modo adiabatico perché non ha tempo di assorbire calore dall'esterno e si raffredda, compie lavoro contro l'aria esterna e l'energia per compiere questo lavoro, per spingere via l'aria, la prende dalla sua energia interna. Se invece vogliamo comprimere adiabaticamente il gas, dobbiamo aggiungere i granelli sul pistone. La forza di gravità, la pressione esterna spinge il pistone verso il basso e compie lavoro positivo, il gas invece compie lavoro negativo, cioè lavoro resistente perché spinge in alto, ma il pistone si sposta in basso. Allora per il primo principio della termodinamica, con Q uguale a zero, il calore è scambiato nullo, con un lavoro resistente negativo, delta U diventa positiva. Cosa sta succedendo? Che l'energia che entra nel gas sotto forma di lavoro che viene compiuto dall'esterno, viene tutta accumulata nell'energia interna del gas e siccome l'energia interna dipende dalla temperatura, un aumento dell'energia interna vuol dire un aumento della temperatura e il gas si scalda. Una compressione adiabatica si ha quando si gonfia la ruota di una bicicletta con una pompa a mano. La compressione dell'aria è talmente rapida che il gas non riesce a cedere calore all'esterno e quindi si riscalda. La diminuzione di volume è dovuta al pistone che schiaccia l'aria all'interno della pompa e quindi ne fa diminuire il volume. L'equazione dell'adiabatica si può scrivere in questo modo. Questo se vogliamo utilizzare come grandezze fisiche i volumi e le temperature. È questa relazione che abbiamo già visto in precedenza. Qui i valori iniziali sono V0 e T0 e quelli finali sono T e V. Il libro propone questo esempio di applicazione della formula appena vista. Abbiamo il gas elio a temperatura ambiente che viene lentamente compresso fino a ridursi a un quarto del volume iniziale. Si vuole la temperatura finale. Siccome il cilindro è isolato termicamente dall'ambiente esterno la trasformazione è una compressione adiabatica e allora si può utilizzare questa formula per la temperatura finale. Il rapporto dei volumi l'abbiamo perché il volume iniziale V0 è quadruplo del volume finale quindi questo rapporto fa 4. Inoltre abbiamo anche l'indice adiabatico gamma perché l'elio è formato di atomi quindi è un gas monatomico e l'indice adiabatico vale 5 terzi. A questo punto basta andare a sostituire i valori quindi il rapporto dei volumi è 4, gamma meno 1 è 5 terzi meno 1 quindi 2 terzi. La temperatura iniziale è 300 K e facendo i calcoli abbiamo una temperatura di 756 K che è superiore rispetto a quella iniziale. Infatti in una compressione adiabatica il gas si scalda. Come sapevamo anche dal grafico PV il gas si comprime quindi va da B verso A e si riscalda, sale di isoterma. A questo punto il libro Amaldi dimostra e ricava anche l'altra formula quella che in realtà è usata più comunemente per la trasformazione adiabatica cioè PV alla gamma è costante. e poi scrive e ricava anche l'ultima formula quella della trasformazione adiabatica che fa uso di pressione e temperatura. Infine il libro disegna la trasformazione adiabatica nel piano PV e si vede che attraversa e interseca le varie isoterme.